Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati Oggi ancora vi parlerò di voce Argomento interessantissimo In molti mi chiedete tante cose sulla voce Quindi ho scelto di approfondire appena possibile questo argomento Oggi in particolar modo mi occupo di un problema abbastanza comune nei mix Che ascolto e che mi mandate Che è l'intellegibilità della voce all'interno del mix Ovvero riuscire a capire esattamente cosa dice il cantante Anche con un mix trafficato quindi bello pieno E a volumi molto bassi Questa è una cosa che non è sempre scontata E diciamo che è una difficoltà che molti mix engineer trovano Allora prima di tutto la cosa più importante è che la voce sia compressa nel giusto modo Ok quindi è importante che l'RMS medio sia comunque non bassissima Non ci siano escursioni dinamiche esagerate Perché potete capire che se il cantante dice una parola A altissima E quella dopo bassissima È normale che sentirete la prima La seconda non la perderete all'interno del mix Quindi una buona compressione Dovuta da una compressione in insert O dovuta anche a una compressione parallela È il primo passo per avere una buona intellegibilità Step numero 2 Lavorare bene le frequenze medio-alte Che sono proprio le frequenze che ci danno appunto il dettaglio della voce Però fate molta attenzione lì Perché lì si possono fare dei gran danni Non esagerate Perché se esagerate in quella zona lì vi viene l'effetto radiolina oppure effetto lametta La voce tenderà ad essere troppo intellegibile e troppo tagliente Quindi fate molta attenzione Boost che possono andare da 1,5 kHz in su Quelle sono le zone migliori In special modo l'intellegibilità la troviamo appunto da 1,5 barra 2,0 kHz fino ai 6 Lì c'è proprio la parte intellegibile e il dettaglio della voce Che poi dopo è anche la parte a cui il nostro orecchio è più sensibile E poi dopo c'è l'aria Su in alto dai 7.000 agli 8.000 su c'è l'aria Quindi un buon equilibrio fra questi due Vi dà una buona intellegibilità all'interno del mix E poi sicuramente un altro step che vi può aiutare tantissimo Sono le automazioni È importante comunque a fine del mix Per me è fondamentale fare un giro a un volume abbastanza basso In modo da capire che la voce Vi faccio, come dire, vi do questa immagine mentale Galleggi, ok, su tutto il mix Questa è la sensazione che cerco di dare all'interno magari di un mix pop In un mix magari indie rock un po' più internazionale Magari la tengo un po' più all'interno Però è importante che la voce in tutto il brano Sia comunque sempre presente, intellegibile Non troppo fuori che risulti staccata dal mix E non troppo, come dire, inglobata all'interno del mix Quindi se tenete bene a mente questi tre consigli Sicuramente l'intellegibilità della voce all'interno dei vostri mix migliorerà Come sempre ragazzi vi ricordo il nostro portale improveyourmix.com All'interno del quale troverete tanti contenuti interessanti Appunto in merito a ciò che vi parlo all'interno di questi video In special modo per il mix Per rimanere inerenti a ciò che vi ho appena spiegato Potrebbe essere interessante per voi andare a vedere il contenuto sulla compressione In cui all'interno di questo videocorso parlo appunto anche in modo approfondito di questo argomento Bene, come sempre ragazzi vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video Ciao a tutti